Musica Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento, è tornato con noi Vanni Fraiese, ciao Vanni Ciao Francesco, buongiorno a tutti Vanni, come avrai notato sono tornati alla carica, oggi c'è un'intervista di Palù sul Corriere della Sera ieri riportavano su Repubblica le parole di un altro grande scienziato come Pregliasco che invitava a non abbassare la guardia di fronte all'arrivo della variante Pirola sembra uno scherzo, diciamo che questi uomini non hanno il senso del limite prima di entrare sulla questione più dirimente della nostra intervista che riguarda uno studio che tu hai presentato a Bruxelles all'International Covid Summit vorrei un tuo parere su questo ritorno, per dire la verità neanche molto convinto di fiamma, sull'ansia pandemica presentato dai soliti giornalisti Era nell'ordine naturale delle cose, ci aspettavamo che questo sarebbe successo in realtà se devo dirla tutta mi sembra che al momento stia uscendo una direttiva che dice di non fare più il tampone a tutte le persone che entrano nel pronto soccorso ma di farlo solo a quelle sintomatiche, quindi in realtà mi sembra un micro passo logico il fatto di avere poi dei contratti che sappiamo che sono pluriennali con le case farmaceutiche anche se non li possiamo vedere si sa benissimo che era previsto il ritorno dei nuovi vaccini e quindi la campagna che si associa ad essa però anche qui devo dire, io ricordo le parole che mi sembra che aveva pronunciato Schillaci stesso cioè mai più obblighi, quindi se già questo governo rimane fedele intanto al mai più obblighi è un grosso passo avanti rispetto a quello che sono riusciti a fare i governi precedenti che è meglio lasciar stare sinceramente poi che il circo ci provi non c'è dubbio, in America stanno ripartendo in qualche maniera con le mascherine con altre cose, da noi vediamo cosa succederà, però non vedo più lo stesso fervore idealistico a parte appunto nei Basdaran che sono rimasti è anche vero che la popolazione non si fa manipolare facilmente come prima hanno imparato un po' a riconoscere i limiti di questo racconto a malincuore anche questi giornalai spiegano che il numero dei vaccinati è decisamente crollato cioè non crede più nessuno a questi signori ma come si fa a credere nel momento… allora loro hanno raccontato una storia che era piena di menzogne vi ricordate il famoso draghi, non ti vaccini, ti ammali muori o fai morire tutti avevano l'illusione che vaccinarsi sarebbe stato come vaccinarsi con i prodotti precedenti per cui la malattia probabilmente non la prendi o se la prendi è veramente una passeggiata e neanche te ne accorgi poi tutti si sono accorti perché gente che ha fatto 3-4 vaccinazioni si è presa il Covid 3-4 volte la percezione quindi che qualcosa non tornasse nella narrativa che gli veniva fatta oramai credo che una persona quantomeno su 2 ce l'abbia perché la realtà gli ha raccontato una storia ben diversa da quelle che erano le promesse televisive o dei televirologi basta ricordarsi i tempi di durata fatene 2 durerà per tutta la vita fatene 3 poi durerà per 10 anni adesso siamo a 1 all'anno e bisognerà guardare le cose in maniera un pochettino più oggettiva se non vogliamo anno per anno continuare a finanziare le case farmaceutiche per decine se non centinaia di milioni di euro per un qualcosa che se veramente ce ne sia bisogno oppure no sarebbe molto da approfondire nel frattempo cercano in tutti i modi di tenere sott'acqua le vicende davvero importanti a partire da quella sugli effetti avversi era parlato della commissione parlamentare d'inchiesta adesso è tornata improvvisamente nel silenzio ogni tanto riemerge, viene fuori qualche studio nel merito però tutto sommato l'omertà sembra prevalere credo che in questo momento dove ci sono state le vacanze penso che ripartirà la questione mi sembra che l'onorevole Bignami si sia espresso in maniera molto chiara al riguardo vediamo se le parole che ha pronunciato Mattarella eserciteranno una qualche forma di freno in un qualcosa che ovviamente ampiamente invece all'interno sono delle cose necessarie da fare in questo paese sapere se quello che è stato fatto è stato fatto in maniera corretta oppure no soprattutto perché non serva ciecamente da modello nel qual caso si dovesse ripresentare in una situazione simile perché i dati scientifici che noi abbiamo oggi a disposizione distruggono qualunque delle narrative che sono state fatte tachibrina, vigile attesa, i lockdown non sono serviti fondamentalmente a niente le mascherine è stato provato che non solo sono inutili ma sono anche dannose perché aumentano i livelli di dranatride carbonica dopo pochi minuti che uno le indossa quindi tutto il meccanismo che in qualche maniera ci è stato portato avanti come un punto più alto della scienza nel combattere un'infezione respiratoria di tipo virale in realtà si è dimostrato del tutto fallimentare eppure si tende a riproporlo ancora una volta come se le informazioni che prima non avevamo all'inizio adesso non fossero state pubblicate e disponibili purtroppo l'ideologia una volta che prende piede è un'ideologia, non ha neanche bisogno più di andare a vedere la verità oppure meno si prosegue con quella che si è decisa essere una verità peccato che non lo sia Ci vuoi spiegare questo studio che hai presentato a Bruxelles? Quali dati hai sottoposto all'attenzione della pubblica opinione? Allora in realtà non ho portato uno studio il titolo della mia presentazione era riproduzione umana e vaccini mRNA, studi mancanti il problema è proprio questo una serie di cose non sono state approfondite e ho spiegato anche il perché parte di questo è successo attraverso una sorta di trucco dialettico se vuoi cambiando la definizione del CDC in corsa di che cosa è un vaccino appena prima del rilascio di questi nuovi prodotti sperimentali mRNA hanno fatto in maniera che il cambiamento della definizione facesse entrare questi prodotti all'interno della cosiddetta ampia categoria a questo punto dei vaccini con un effetto però molto negativo perché i vaccini prima erano considerate delle sostanze tipo una proteina che non ha un'azione farmacologica e fondamentalmente non fa nulla se non stimolare la risposta immunitaria nel corpo mentre questo prodotto di cui stiamo parlando per esempio i vaccini a RNA sono nanolipidi che contengono degli acidi nucleici che poi faranno codificare all'interno della cellula per esempio la proteina spike come nel caso dei vaccini per il covid quindi c'è un'azione farmacologica che è quella della produzione della proteina spike quindi averli chiamati vaccini significa che non sono stati fatti lo dico per la milonesima volta tutti quegli studi che erano necessari in realtà per un farmaco tra l'altro di tipo genetico che vanno dalla biodistribuzione ovvero sia vi ricordate tutti che andavano dicendo che se io faccio l'iniezione rimane il prodotto sul deltoide e non va in circolo l'ho detto credo in senato oramai più di due anni fa che c'erano i dati sulla biodistribuzione nel topo perché nell'essere umano non li hanno fatti che dimostravano che in realtà non rimaneva affatto lì dove veniva iniettato ma andava in giro dappertutto e in particolare andava in maniera preoccupante ad interagire con le ovaie e con i testicoli in particolare con le ovaie allora un prodotto che non doveva arrivare all'ovaie che significa riproduzione in realtà significa che c'è la possibilità di interazione con l'ovaio che rappresenta il futuro della fertilità, dell'anatilità e di altre cose quindi tutto questo ho denunciato fondamentalmente che ancora oggi non è stato fatto nel frattempo in letteratura sono usciti dati di tutti i tipi che dimostrano un'interazione sia con l'apparato riproduttivo maschile sia con quello femminile che è un evento che non era stato preso in considerazione perché sembrava appunto che non dovesse mai arrivarci quindi nessuno l'ha guardato invece ci arriva e ha degli effetti che non sono positivi sia perché Marco Cosentino che è lo stesso autore della pubblicazione che ha spiegato molto bene perché questo vaccino in realtà è un profarmaco che si chiama playing dice with spike cioè giocando a dati con la spike è anche lo stesso professore universitario che ha approfondito la questione del fatto che essendo un profarmaco e non un vaccino in realtà non ne sappiamo niente anzi secondo lui e anche secondo me il prodotto lo chiamerei sperimentale a tutt'oggi perché noi le domande fondamentali non le conosciamo la biodistribuzione non la conosciamo se c'è un effetto sui tumori non lo conosciamo perché gli studi non sono ancora oggi stati fatti è tutto rimasto esattamente così come era e in particolare ho ricordato loro che il momento in cui secondo me la scienza ha abdicato proprio al proprio ruolo di se volete di metodo di osservazione della realtà è stato quando è stato consigliato a tutte le donne in gravidanza di vaccinarsi in totale assenza di dati che è qualcosa che va contro il diciottesimo punto della dichiarazione degli Helsinki sulla ricerca umana e che è letteralmente proibito cioè il medico non può né partecipare né far partecipare delle persone nella somministrazione di un farmaco della quale non sia stato studiato il meccanismo d'azione e qui non è stato fondamentalmente studiato niente ma oggi sappiamo qualcosa in più rispetto a un anno fa rispetto a due anni fa rispetto a questo problema allora oggi sappiamo che un altro assunto che c'era stato dato cioè che la spike fosse una sorta di orpello non significativo e non senza problemi c'è la spike stessa proprio del coronavirus in realtà di per sé non solo la spike ma una subunità che si chiama S1 sono in realtà parte fondamentale del problema perché hanno un'azione di tipo infiammatorio nel corpo il fatto di tra l'altro prendere consapevolezza del fatto che solamente questo frammento è in grado di dare una risposta infiammatoria nel corpo che va ben oltre la possibilità della creazione degli anticorpi significa che se questo farmaco si distribuisce nel corpo e produce le spike bisognerà vedere come il corpo reagisce a quella che considera una minaccia che è fondamentalmente la distruzione delle cellule che stanno producendo questa che oramai viene definita una tossina e come poi reagirà a livello di autoimmunità o di altro tipo in realtà tutto quello che serviva al momento non è stato fatto ci sono segnali di preoccupazione che vengono sia dai dati euro nuovo di eccesso di mortalità sia dai dati per esempio che sono stati presentati a livello svedese che c'è stato un calo importante nell'ordine di più del 10% delle natalità nel paese che è coinciso esattamente nove mesi dopo l'inizio della campagna vaccinale ci sono le prove appunto dell'interazione col sistema riproduttivo quindi ci sono una serie di segnali che oggettivamente a livello medico e a livello scientifico dovrebbero far rizzare le antenne ai colleghi ma rimangono pubblicati e praticamente ignorati mentre tutte le informazioni che andavo per esempio chiedendo ancora oggi né le case farmaceutiche né l'EMA né tantomeno il nostro governo ha dato risposta a questo punto viene da chiedersi se in realtà non si dia risposta semplicemente perché si ha paura di quello che eventualmente potrebbe uscire fuori da questo tipo di ricerche e credo che in questo momento le persone e parlo soprattutto ai colleghi che hanno realizzato che nella narrazione farmaceutica che gli è stata somministrata e tra l'altro gli ha richiesto di vaccinarsi per una malattia che già avevano avuto e quindi abdicando completamente al proprio ruolo di conoscenza medica globalmente perché un medico che sta in pronto soccorso oppure che lavora in ospedale si prende il covid si fa la malattia e dopo accetta di farsi vaccinale per la stessa malattia sta semplicemente dicendo al sistema in qualche maniera guarda io non so niente puoi farmi fare quello che ti pare perché questo veramente va contro le basi della fisiologia del primo o del secondo anno di medicina quindi non avere neanche quel tipo di accortezza secondo me è stata proprio la cartina tornasole del momento di confusione totale nel quale il sistema evidentemente è entrato e purtroppo quando le acque sono agitate evidentemente sono proprio quelle persone che hanno la capacità di mantenere l'oggettività della questione e di guardare le cose in maniera un po' più distaccata e con una visione un po' più ampia che magari guardi al presente e anche al futuro senza andare a rischiare sulla pelle dei cittadini senza fare sperimentazioni che francamente tutto è for crescenza ecco se c'è una cosa che da profano mi ha inquietato e anche indignato nell'assistere ad alcune scelte imposte dai poteri pubblici è la seguente noi sappiamo che questo covid ha avuto dei livelli di letalità per alcune categorie bassissime quasi inesistenti in particolare per i bambini per gli adolescenti insomma di fatto è rimasta vicino allo zero assoluto il dato di letalità però nonostante questo si è imposto diciamo un utilizzo indiscriminato di questo farmaco che in alcuni casi anche i più giovani che non rischiavano nulla dalla malattia ha comportato delle problematiche importanti sentivo Roide Vita che è un medico romano molto conosciuto che diceva io in tanti anni di professione non ho mai visto l'herpes zoster sul volto dei miei pazienti adesso ne ho visti cinque in pochi mesi ci sarà un rapporto di causa effetto possibile che nessuno riesca a spiegare in maniera scientifica l'aumento di questi danni collaterali in relazione a questa strana vaccinazione di massa cioè si può nascondere all'infinito questa evidenza ma guarda se se non ci si mette la luce sopra cioè se non si fa quello che dovrebbe fare normalmente la ricerca cioè prendersi prendere un lente di ingrandimento e guardare cosa sta succedendo si può nascondere certo che sì alcuni dei dati non sono però nascondibili e penso all'eccesso di mortalità per esempio che è stato pubblicato in Germania che ha dimostrato che nel 2020 cioè in piena pandemia con le varianti peggiori c'è stato un eccesso di mortalità in Germania di 4 mila morti che è irrisibile nel 2021 ce ne sono stati 33 mila e nel 2022 sono stati 66 mila morti più quindi questa strana narrazione del vaccino in qualche maniera ci avrebbe salvato da non si sa che cosa fermo che questi stiamo parlando di mortalità generale e non specificamente legata al covid comunque i dati che noi ci abbiamo sono molto preoccupanti perché significa che comunque è successo qualcosa vuoi che sia il covid vuoi che sia la vaccinazione vuoi che sia stato qualcos'altro ma stiamo avendo un eccesso di mortalità che è peggiore adesso di quello che stavamo avendo durante le ondate di covid e quindi qualcosa non torna la natalità un effetto inizia a esserci i segnali sono tanti e sono francamente preoccupanti è stato anche pubblicato un articolo che ha dimostrato nelle vescicole dell'herpes zoster almeno in un caso che è stato pubblicato la presenza della spike e quindi a indicare una possibile connessione diretta se volete tra ciò che è stato fatto l'azione farmacologica del vaccino mRNA con la produzione della spike magari eccessiva e probabilmente slatentizza tutta una serie di virus perché io oggettivamente anch'io sto vedendo nelle analisi delle persone che me le mandano a far vedere nel poco tempo che ho a disposizione dei pannelli in cui sono riattivati i virus di qualunque genere come se ci fosse cosa che in parte già sappiamo una sorta di rimodellamento del sistema immunitario che comunque non riesce a svolgere la sua azione con la stessa efficacia di prima e questo tra l'altro è una cosa molto complessa perché il sistema immunitario è quello che ci difende non solo da virus e batteri ma è anche quello che ci difende dall'insorgenza dei tumori o che determina l'andamento di tutta una serie di altri problemi per quanto riguarda tra l'altro la storia basata su dei modelli matematici assolutamente falsi per esempio che il vaccino avrebbe salvato chissà quanti milioni di persone un dato che posso che ho detto sempre a Bruxelles che ripeto volentieri qui che è stato pubblicato invece in Inghilterra mostra che la percentuale di morti per Covid in tutto il 2022 sono stati per l'8% i non vaccinati e il 92% persone vaccinate il 70% persone trivaccinate o più quindi ci sono dei dati oggettivi nel mondo che qualcuno ogni tanto pubblica che è proprio la narrazione o quello che la gente ha in testa che sia la realtà la disintegrano il problema è che la comunicazione quella cosiddetta mainstream non si azzarda mai a entrare in questo campo anzi quello che vedo notare adesso è più che altro una voglia di semplicemente dimenticare ciò che è stato e proseguire sull'onda di questo per fortuna non più un nuovo normale come avrebbe voluto il Presidente della Repubblica o quelli della sinistra che avrebbe significato ricominciare anno dopo anno con tutta la gestione distopica che abbiamo già vissuto ma quantomeno ci troviamo di fronte a una gestione un pochettino più oculata quantomeno nel senso umano poi sarà il tempo a giudicare quali saranno le azioni che verranno compiute a livello sanitario da questo governo man mano che arriveranno per esempio i mesi invernali e come è facile prevedere appunto tornano i virus influenzali torneranno le varianti del Covid che comunque sono trattabili farmacologicamente in maniera abbastanza semplice e questo fin dall'inizio se uno non avesse eseguito anche qui un privo di significato trattamento di tachiperina e pigilattesa più uno si ferma a riguardare ciò che è successo a bocce ferme diciamo e senza quell'alito di paura che veniva aspirato in continuazione intorno a noi più uno si accorge che è stato fatto veramente una gestione di tutta quanta la storia pandemica che è semplicemente priva di logica rispetto ai problemi cardiaci in relazione a questo tipo di vaccinazione di massa ci sono nuovi studi nuove conferme che c'è ancora chi le nega a me capitava da brindisi l'ultima volta ho provato a dire guarda che lo ammettono anche loro che provoca delle miocarditi tu dirai rarissimi casi però la domanda di fondo è anche no no non sono affatto non sono affatto rarissimi casi quello che dico rarissimo ma io lo volevo dire come iperbole cioè se anche fosse uno su diecimila un bambino su diecimila che prende la miocardite un bambino su diecimila per covid non muore quindi il rapporto di causa-effetto sarebbe spavorevole anche nel caso in cui fosse vero questo che voi dite e non è vero Francesco sono stati pubblicati i dati nel frattempo perché quello che abbiamo chiesto per tanto tempo a partire da settembre del 2021 cioè di fare una farmacovigilanza attiva in maniera tale d'accorgersi che ci fossero dei problemi perché altrimenti non saltano fuori è risultato che quando l'hanno fatto in Thailandia e poi ripetuto in Svizzera a Basilea hanno fatto le vaccinazioni nei bambini e gli hanno misurato gli enzimi cardiaci la troponina la mioglobina una serie di altre cose si sono accorti si sono accorti che il 30% dei bambini ha avuto comunque il sistema cardiopastrocolare toccato in qualche maniera in maniera transitoria quindi praticamente uno su tre il 3% il 2,8% per l'ecisione ha sviluppato la miocardite quindi stiamo parlando del 2,8% dei bambini studiati non del 3 su 100.000 che viene detto ma stiamo parlando praticamente del 3% la miocardite lieve la miocardite lieve non esiste ma tanti possono averla senza saperlo? possono averla avuta che diciamo che non ce l'abbiano in tantissimo tempo diventa complicato una delle cose di cui sono stato e sono ancora promotore è proprio quella di andare a vedere un pochettino nel dettaglio che cosa succede nei bambini perché abbiamo i dati di Euromomo ma non solo anche i dati pubblicati per esempio dalla stessa Germania come citavo prima che mostrano che questo aumento della mortalità esiste in tutte le fasce ed esiste anche nella fascia 0-14 dove è un elemento veramente fuori dal comune perché normalmente ne nascono molti pochi in congiunzione con un gruppo di con vari gruppi di volontari dell'Abruzzo abbiamo fatto richiesta alle istituzioni di mettere in piedi una sorta di screening cardiologico che screening in realtà non è ma alla fine lo chiameremo sorveglianza attiva che ci consenta di andare a studiare dove venisse approvato per esempio il cuore dei ragazzi che hanno avuto il covid oppure che hanno avuto la vaccinazione oppure che hanno dei fattori di rischio per la morte improvvisa andando a vedere se si possono trovare dei marker che siano in realtà in grado di predire il rischio di questi bambini è una misura se volete che in teoria dovrebbe partire direttamente dallo Stato sulla base di quelle conoscenze che vi ho appena detto cioè che il fatto che 3% dei bambini da ricerche pubblicate anche in Svizzera sviluppa la miocardite quindi se non il sistema deve farsi carico di questo problema e trovare una maniera di capire chi è a rischio o chi non è a rischio siccome il sistema al momento non lo sta proponendo e questa questione pare che non la stia studiando nessuno così come io due anni fa mi sono alzato da solo dicendo guardate io e mia figlia non la vaccino e vi spiego il perché allo stesso tempo pur non essendo il mio campo sto cercando di portare avanti questo qualcosa perché comunque io vedo l'eccesso di mortalità per esempio infantile e questo dato a me mi turba e vorrei saperne di più e soprattutto vorrei sapere come poter aiutare le persone e tranquillizzarle perché in alcune regioni come l'Abruzzo sono morti ben più di 20 bambini in un anno che è un qualcosa che è completamente fuori dalla statistica degli anni precedenti e queste sono vite di cui stiamo parlando il perdere un bambino a 8 a 10 a 12 a 14 anni io credo che sia l'evento più traumatico e doloroso che tra l'altro un'intera famiglia possa vivere quindi lo Stato dovrebbe fare in maniera di proteggere di evitare che questo sia una cosa rara come di solito è sempre stata nel nostro tempo invece abbiamo assistito a questo paradossale cambiamento di narrazione per cui ve lo ricorderete bisognava vaccinare i bambini non perché loro fossero a rischio ma perché bisognava proteggere i fragili e gli ultraanziani che nel frattempo erano già vaccinati quindi non c'è stata semplicemente logica dalla perdita di logica è seguita la perdita di umanità cosa che abbiamo sperimentato tutti più o meno chi sulla propria pelle chi sui racconti di altre persone per poi arrivare a dove siamo adesso che è una zona grigia bisogna capire se tenderà più verso la verità alla luce se ci sarà il coraggio semplicemente di dire la verità cosa che fino adesso è mancata oppure se si continuerà nello stesso alone di mistero e di segreto militare che ha circondato questa storia fin dall'inizio ecco ti voglio sbloccare un ricordo a proposito di informazione coerente fake news ecco quest'uomo qui guarda che bello è Burioni dice che c'è stato un solo morto in tutto il mondo diceva nell'ottobre del 2021 per effetti avversi un povero l'unico sfortunato è uno della Nuova Zelanda che è morto per miocardite probabilmente non è neanche sicuro una persona sola ha avuto la miocardite ed è morta in Nuova Zelanda probabilmente un aborigino che avendo un sistema immunitario diverso non ha resistito si è emozionato di fronte alla scienza quindi è morto più per l'emozione forse che per la miocardite ora come fa una sparare fesseria di questo tipo poi voi parlava di miocardite benigna che a me sembra un po' la meningite di Totò cioè cos'è la mia tu hai mai visto uno felice da me dice Dio che bello ho la miocardite cioè hai visto qualcuno che la mette nel curriculum guarda la miocardite significa l'infezione l'infiammazione del cuore ora l'infiammazione del cuore non è che ci vuole un genio a capirlo che se mi si infiamma la gola ho il mal di gola e ho una serie di problemi la sento un certo tipo ma se ti si infiamma il cuore forse la problematica è livellamente più complessa e il vero problema non è nella maggior parte dei casi nell'acuto cioè tendenzialmente questi tipi di miocardite e pericardite tendono comunque a regredire ma lasciano molto spesso un esito cicatriziale che aumenta il rischio di possibilità di morte nei successivi cinque anni ma per infarto per problemi no per problemi di conduzione elettrica del cuore ma queste morte improvvise possono essere legate ai postumi di una miocardite possono entrare nell'alveo delle possibilità non delle certezze cioè tu non lo puoi escludere però cioè tu non potresti dire nessuno può morire per aver avuto dei problemi di cattiva guarigione da una miocardite non si può escludere no non è che non si può escludere cioè basta parlare con i cardiologi io su questa cosa la sto facendo col professor Capucci che è un ordinario di cardiologia e capisci perfettamente che in realtà sì è un evento che può succedere perché la miocardite non è uno scherzo è una patologia in teoria abbastanza rara era e che comunque lascia delle conseguenze dubbie perché appunto la cicatrice in un tessuto che conduce l'energia elettrica che fa condurre il cuore può rappresentare in un momento un qualcosa che impedisce la conduzione e il cuore si ferma Vanni ma i cardiologi lo sapranno se hanno visto un aumento evidente in questi ultimi due anni di malattie che prima erano molto rare perché non parlano ci sarà il presidente dei cardiologi italiani si potranno riunire e dire ma guardate che noi prima non abbiamo mai visto una miocardite in bambino o erano eventi rarissimi adesso ne vediamo due o tre al mese non c'è uno di loro che ha il coraggio di alzare il dito e dire sentite brindisi vespa mentana finitela di dire fesserie perché sono noi ogni giorno andiamo incontro ad una realtà che prima non esisteva e adesso esiste intanto la miocardite come dicevo se non è sintomatologica può non esserlo passa non conosciuta quindi non è che uno porta per esempio un bambino a fargli un controllo cardiologico se pensa che non c'è un fattore di rischio quindi il discorso è un po' più difficile quello che ti posso dire è che in camera caritatis soprattutto colleghi oncologi mi stanno parlando di tumori rarissimi che vedono sempre più spesso e che sono stati definiti da altri colleghi turbocancro cioè dei cancri che hanno uno sviluppo rapidissimo e molto spesso un exitus non favorevole nell'arco di tempi molto più veloci rispetto a prima o mi parlano di riattivazioni di precedenti tumori che improvvisamente tornano più aggressivi di prima però mentre ci sono delle prove indirette se vuoi che proprio sono legate al fatto della capacità pro-infiammatoria della spike intanto torniamo a quello che ti dicevo prima non avete fatto gli studi di cancerogenicità sono due anni che lo dico non è che stiamo parlando allora che ti rispondono di fronte a questa obiezione mi rispondono che per i vaccini non è previsto ed è vero per i vaccini precedenti sì perché il vaccino precedente nella cellula non ci entra è un corpo che rimaneva lì nel deltoide dove veniva messo non interagisce con la cellula non ci entra proprio dentro quindi andare a fare i test sul DNA è logico che è stupido perché sappiamo che non ci entra ma questa invece entra all'interno della cellula ed è un acido nucleico è una cosa completamente riferente è proprio il fatto di aver cambiato la definizione che ha permesso di dire è un vaccino quindi non serve fare questi studi ma anche se lo chiami vaccino questo rimane un nanolipide con dentro l'RNA o il DNA come nel caso dell'astrazenica o dello sputnik che entrano all'interno della cellula sono acidi nucleici c'è bisogno di sapere se c'è un effetto tipo cancerogeno oppure se non c'è ecco improvvisamente ti sei non so se è un effetto oppure di qualche fenomeno strano ma ti vediamo ecco prima ti vedevamo per bene poi ti abbiamo visto all'improvviso obliquo proviamo adesso la rotazione Vanni dovresti evidentemente hai toccato la rotazione del telefono adesso ti vediamo sospeso ecco adesso sei tornato sei tornato perfetto questo tipo di vaccino è spesso sospetto che poi un vaccino non è è spesso sospettato di avere provocato delle reazioni di natura autoimmune anche forte c'è un aumento di quest'altro tipo di patologia magari lupus artrite reumatoide e altri problemati magari anche più gravi di questa natura guarda intanto l'ultimo paper che è stato pubblicato dal professor Montagnè oramai postumo è uscito dimostrando la quantità di casi della Creutzfeld-Jakob che è la malattia da prioni la cosiddetta malattia della mucca pazza che è una patologia per fortuna rarissima verso la quale non abbiamo nessuna forma di terapia e appunto scriveva nell'articolo che ha portato che ne ha visti solamente lui in Francia più di 30 casi a sviluppo estremamente rapido quindi c'è la possibile interazione in realtà con tante cose c'è poi un problema che c'è una certa omologia tra diciamo tra alcuni pezzi del nostro corpo che per alcuni versi potrebbe il sistema immunitario scambiare per omologia con la spike e quindi instaurare patologie autoimmuni questo si sapeva fin dall'inizio che era una possibilità c'è anche una possibile connessione a livello cardiologico c'è un'ipotesi che dice che l'infiammazione cardiologica che avvenga avvenga per proprio l'omologia di un particolare del muscolo cardiaco una proteina che si chiama titina che viene scambiata possibilmente dal sistema immunitario per una cosa tipo la spike e quindi c'è un'autoinfiammazione per esempio del muscolo cardiaco ma in realtà queste cose non le stiamo guardando perché per guardarle in maniera approfondita chiara e trasparente avere il comitato etico che ti dice di sì ci vuole da parte dell'accademia e anche dalla parte della politica perché dalla casa farmaceutica non l'avremo mai la voglia di sapere qual è la verità seppure sono passati due anni il problema è che la voglia di sapere la verità non c'è se a voi che ti dica tutto la maggior parte dei miei colleghi quando li incrocio e magari scambiamo due parole alla fine mi dicono io non lo voglio sapere io mi sono già vaccinato oppure ancora peggio io ho vaccinato i miei figli e di parlare con te che mi spieghi l'articolo scientifico che mi fa di fatto perdere il sonno non lo voglio fare ed è una scelta consapevole non posso entrare in un giudizio di un qualcosa dove io non so oggettivamente non mi sono mai trovato a dover negare tra virgolette non voler essere informato di qualche cosa perché ho paura della risposta che eventualmente vado a trovare quindi non entro nel giudizio a me sembra però nascondere la testa sotto la sabbia e fondamentalmente sperare che tutto vada bene questo mi riporta indietro guarda a quelle scritte fuori fuori dai balconi dove c'era scritto andrà tutto bene all'inizio di questa storia e io già all'inizio ti dicevo tra me e me andrà tutto bene un corno perché una cosa che inizia con gli arresti domiciliari della popolazione senza nessun senso per un virus che poi abbiamo scoperto essere stato presente nel nostro territorio almeno dai sei mesi prima cioè tanti hanno dimenticato ma è stato davvero difficile in alcuni momenti resistere di fronte alla pressione del sistema quindi io capisco quei padri magari che hanno travolti da quel clima hanno portato i bambini negli hub vaccinali è evidente che adesso magari di fronte ad una realtà così drammatica possono avere degli scrupoli di coscienza ma è stata ancora più difficile per i genitori mi ricordo Vanni che ti accusavano di essere un potenziale assassino cioè di mettere in pericolo la vita degli anziani genitori soltanto per aver abbracciato teorie antiscientifiche quasi di pura stregoneria insomma hanno toccato la leva del ricatto morale in maniera molto cinica e molto crudele guarda in maniera antiscientifica credo che l'abbiano detto dei giornalieri strapazzo io alla fine non ho avuto un collega che in realtà abbia potuto dire qualcosa su ciò che gli ho detto anche perché come detto da allora io non ho mai espresso opinioni come fanno la maggior parte dei personaggi pseudo televisivi che siano io ho semplicemente dato i dati o la mancanza dei dati lì dove servivano non c'è mai stata una mia opinione né altro e qualunque cosa ho detto era sempre supportata da pubblicazioni scientifiche il problema è proprio questo il problema è che la voglia di andare a approfondire tutta quanta la questione non c'era perché c'era una voglia incredibile giustamente anche di uscire intanto dalla follia nella quale ci avevano fatti entrare e siccome il messaggio che ci veniva costantemente recapitato era ne usciremo quando arriva il vaccino vi ricorderete quando arrivato il vaccino c'era la gente che a momenti si schiacciava per entrare di corsa lì perché? perché gli avevano detto che quella sarebbe stata la salvezza perché gli avevano detto che era sicuro ed efficace perché gli avevano detto che è stato testato abbastanza ed erano tutte menzogne il vero problema è che ancora oggi la gente non ha realizzato la quantità di menzogne che sono state dette da tutti dall'AIFA dall'EMA dallo Stato e chi volete le menzogne alla fine va bene che uno fa presto a dimenticarsele ma in realtà quello che abbiamo vissuto è poco difficilmente dimenticabile nel frattempo abbiamo fatto il lockdown adesso stanno uscendo fuori gli articoli scientifici che parlano dei danni cognitivi e psicologici che hanno avuto i ragazzi a causa di tutto quello che è seguito se tu vai in giro molto spesso io ancora vedo dei ragazzi che stanno con le mascherine le persone di 80 anni quello sta a significare che gli hanno lasciato una paura e un danno psicologico che chissà questo o questi quanto si porteranno avanti per il resto della loro vita una paura che poi tra l'altro è verso l'altro è proprio l'ideale del divide e timpera perché l'altro diventa improvvisamente una possibile fonte di una patologia magari non mortale per me ma tanto c'ho paura ma che se dovessi passare a chissà chi lo uccido quindi il distanziamento non a caso l'hanno chiamato distanziamento sociale era un altro degli effetti che è stato messo cioè quello di creare distanza tra di noi perché non potessimo in qualche maniera contrastare quella deriva di follia ideologica nella quale purtroppo ancora oggi siamo immersi Vanni ti faccio un'ultima domanda c'è stato un momento in cui forse per rianimare la credibilità di questi sieri che era in caduta libera sono venuti fuori con grande evidenza alcuni articoli dove facevano parlare dei presunti luminari che dicevano fortunatamente grazie al vaccino a RNA messaggero siamo pronti per sconfiggere mali terribili come l'infarto e il cancro quindi invitavano il popolo a continuare ad inginocchiarsi di fronte a Pfizer e Moderna che non solo ci avevano tirato fuori dalla peggiore pandemia degli ultimi secoli ma erano pronti anche grazie alla scienza trionfante a vincere l'infarto e il cancro quindi il non detto era i novax i miserabili uomini antiscienza non solo facevano morire la gente di covid ma si battono contro un metodo che ci libererà da mali che spaventano tutti e poi a un certo punto sta grande vittoria contro il cancro e l'infarto è durata 6-7 ore non se ne è parlato più anche perché c'era scritto avremo i vaccini contro il cancro entro il 2030 sta famosa data del 2030 con tutti i progetti adesso collegati quindi hanno semplicemente fatto una sparata che magari ci avrà avuto pure un effetto in borsa non lo so ma hanno detto da qui a 4-5-6-7 anni avremo questa cosa quindi è una previsione basata sul nulla ma come sempre oramai è la comunicazione che fa la realtà non è più la realtà che viene riportata alla comunicazione basta dire le cose in una certa maniera e il popolo in qualche maniera viene convinto oggi di questo domani di quello purtroppo ce ne siamo accorti molto bene in questi anni ma non c'è niente di vero in tutto questo ma sono studi in fase direi embrionale quindi c'è tutto da dimostrare nel frattempo hanno fatto uscire comunque un altro articolo che diceva che era possibile correggere un errore nel DNA utilizzando una tecnica con terapia genica a mRNA che corregge il DNA non ti nascondo anche lì in breve mi è passato dicendo ma come l'mRNA quindi mi sta dicendo che eventualmente può andare a modificare il DNA no anche perché lì torno per l'ennesima volta a dire guardate gli studi di genotossicità non li avete fatti c'è qualche dato per fortuna a pochi che comunque lascia qualche dubbio ma qualcuno li dovrà fare questi studi qualcuno dovrà dire se è la cosa più importante di tutta la storia ovvero sia non è che ci avete alterato in parte il genoma inserendo questa cosa sì o no è possibile avere una risposta io non sto dicendo di sì non ci penso neanche però quegli studi che normalmente sarebbero dovuti essere fatti non sono stati fatti anche questo l'ho detto perfettamente a Bruxelles l'ho detto ma che cosa ci vuole a fargli questi studi due mesi di tempo un mese due settimane tre settimane quello che uno li fa e così uno dà un'informazione che dopo due anni sarebbe il caso di avere magari non si fa proprio perché magari c'è paura non so che dirti io ho l'atteggiamento di quella che è la cosiddetta scienza o della ricerca perché poi la scienza è in termini molto vago devo dire perché qua tra climate change e tutto quanto il resto vediamo che la scienza oramai sembra diventata una clava ad utilizzare per imporre delle ideologie che poi a cascata hanno degli effetti che sono sempre devastanti sull'ultima ruota del carro che è il popolo grazie Vanni per essere stato con noi quindi abbiamo capito che non ci sarà nessun vaccino a RNA messaggero che scongiura la possibilità di sviluppare un cancro questa sembra è probabilmente una butata dell'ennesima stupidaggine lanciata lì evidentemente per manipolare cittadini che ancora credono a Burioni grazie ancora Vanni grazie a te un saluto a tutti bene cari amici di Visione TV grazie per aver seguito anche questa nostra intervista se volete essere sempre preparati e capire le vere dinamiche che dominano il mondo che ci circonda acquistate l'ultimo numero del nostro mensile Visione un altro sguardo sul mondo il ritorno della inquisizione il numero di luglio invece si chiamava governare con la paura un numero indispensabile per mettere insieme i tasselli e riconoscere la manizia del potere che ci sovrasta potete acquistarli sul nostro sito www.visionetv.it alla sezione shop vi aspetto poi tutti il 16 e il 17 settembre a Trento prenotatevi perché saremo in tantissimi due giorni di approfondimento di festa di allegria ma anche di analisi importanti per costruire una dimensione comunitaria che ci ponga al riparo dalla devastante continuazione di politiche fondate su presupposti assolutamente antiscientifici spacciati come dogmi ineluttabili aiutate Visione TV donando i numeri che la regia ha mandato infine in sovrimpressione con bonifico Paypal abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it per rimanere insieme in difesa delle cose in cui crediamo grazie ancora buona giornata Grazie a tutti